Allora ragazzi, sono qui con una delle ragazze più femministe del tuo team, Elena, vabbè stiamo scherzando. Allora andiamo subito al topic che è molto semplice, pro e contro del sesso occasionale? Allora, vabbè ovviamente è un argomento per me, come sempre. Te lo sei scelto tu, hai fatto 100 topic, raga. Pro e contro. Allora, però come dicevamo un po' prima, sicuramente è il no drama, quindi sicuramente non ti devi impegnare, non hai obblighi, in sostanza responsabilità, che è una cosa che oggigiorno purtroppo spaventa tutti, uomo, donna, tutti, quindi perché molte ragazze preferiscono? Perché appunto non hai responsabilità, puoi goderti la vita, fare le tue cose, prendere i tuoi impegni, avere anche il lato sessuale, che comunque è un componente importante nella vita di tutti, penso. Quindi hai le tue cose, hai il tuo equilibrio, perché hai il tuo lavoro, che magari ti piega tanto tempo, hai lo studio, le tue hobby, eccetera, poi hai quella parte che si ti serve, però non devi investirci tutto il tempo, perché è occasionale, quindi quando capita e quando vuoi tu, ripeto, non hai le responsabilità di una relazione che comunque è impegnativa, parecchio, parecchio, quindi questo, i contro sono un po', allora, sempre perché viviamo in una società femminista? No, tutt'altro, il contro è che magari semplicemente tu sei una persona impegnata, ok? Sei una donna impegnata, mettiamo in carriera, oppure semplicemente sei una ragazza a cui piacciono le feste, ok? Semplicemente non ti vuoi fidanzare perché appunto non vuoi queste responsabilità, non vuoi legarti sentimentalmente, perché magari appunto sei appena uscito da una relazione, quindi sei anche un po' incerta su quello che, piuttosto che ferire un'altra persona, preferisci, insomma, starte nel tuo, però ovviamente anche desiderio, giustamente sei umana. Cosa succede però? Sempre tornando a quel discorso, cosa succede? Che se tu tutte le settimane vai a cercare un partner diverso, occasionale, vieni un po' considerata dalla gente intorno come una facile, quindi o non ti preoccupa del giudizio, altro, però questo è un motivo anche secondo me perché per cui molti ragazzi non vanno in giro a fare sesso come vorrebbero, perché hanno paura del parere degli altri e questa è una cosa molto maschilista perché la donna dovrebbe essere libera di vivere il sesso come meglio crede, però vabbè siccome appunto viviamo in questa piccola parte di società maschilista per cui una donna se ha uno diverso ogni settimana viene catalogata e quindi questo è un contro ad esempio perché una donna non può vivere liberamente la sua vita sessuale. Non sai perché non la vuole vivere liberamente? Adesso devo ribaltare la realtà, cioè nel senso devo dire la verità. Allora, una donna fa sesso occasionale, no? Sì. Bene. Arriva, so, 35-36 anni. Tu pensi che una donna dopo 35-36 anni sia ancora in grado di avere sesso occasionale così da forse con un sessantenne, con un quarantenne, con un quarantacinquenne, però è arrivata ad una certa età, mi dispiace dirlo, però l'appeal... Certo. Il maschio cerca la... la ragazza giovane. Sì, la controparte giovane, ok. L'uomo invece... Sì, è vecchia come il vino, capito? Esatto. Aumenta di appeal, purtroppo. Per questo che il sesso occasionale per una donna è pericoloso, perché se si spinge troppo in là quel senso occasionale, finirà per stare da sola, e quando una donna sta da sola, anche te, deve pagarsi le robe. No, e vabbè, non è quello il problema. Difficile, perché vediamo in una società femminista. Io ti stavo per dire una cosa un po' più profonda, non che devi pagarti le cose, ti stavo dicendo a lungo andare in realtà porta un po' a solitudine, un po' a depressione, ma cambiare partner in continuazione. Concordo. Perché non ti leghi, perché ti senti un po' un oggetto, ti senti oggettificata. Quindi a lungo andare non è pagante per nessuno. Però questo, parliamo di una cosa a lungo andare, questo è il contro di chi continua, continua in un tempo prolungato. Un tempo prolungato, secondo me, il sesso occasionale, cambiare partner in continuazione non è quello che ti porta alla felicità, sicuramente, perché non hai le attenzioni, come possono essere, non so, coccole, piccole attenzioni, che magari mi porti qualcosa che mi piace, mi porti in un posto che mi piace. non sono quelle cose che puoi trovare in un rapporto occasionale e sono quelle piccole cose che poi tutti noi cerchiamo, uomini e donne, quindi non ti porta sicuramente la felicità. Il sesso occasionale può funzionare in un periodo determinato da tua vita, tipo hai vent'anni, ti piace fare le feste, ti piace andare in discoteca. Ok, quel periodo di sesso occasionale... Tu quanti anni hai? Eh, io ventitré. No, ma non parlo di me. Non hai fatto, ho detto che hai di te. Io non parlo di me, però posso capire che è quella fase lì, o ti sei appena lasciata, quindi hai la fase in cui vuoi un po' sperimentare, barra, sai di essere un po' indietro, magari rispetto alle tue amiche, rispetto alle tue coetane, e quindi dici, cavolo, però anch'io vorrei provare certe sensazioni, vorrei provare a capire cos'è il sesso, cioè è tutta una cosa per conoscerti e quindi per quel motivo può andare bene. Ma, ripeto, secondo me il contro è che devi farlo in un tempo ristretto, qualche mese, e poi non cambiare proprio tutti i giorni, cioè comunque è una cosa contenuta. Ma questo vale anche per l'uomo, non è che cambiare donna ogni giorno allora ti porterà la felicità, tutt'altro. Cioè ci sono quei, sai quei proprio playboy incalliti che alla fine sono sempre infelici, che arrivano a 50 anni da soli, che magari sono andati a pagamento per tanti anni pensando di aver fatto le migliori conquiste del mondo, poi alla fine da 50 anni sono da soli e pensano, cavolo, magari se avessi investito del tempo in una famiglia, poi vabbè ognuno ha il suo desiderio, però sai quanti anche arrivano a 50 anni e dicono sì, ok, quindi ho speso tantissimi soldi per le donne e poi sono sempre da soli. No, in realtà non ho risparmiato, perché hanno tutto il patrimonio. Sì, sì, però sai quanti, magari vanno a pagamento. Chi di l'assidio che sborsa non so quanti centinaia di migliaia di euro al mese? Parliamo di un caso isolato, di una persona ultramilionaria. Beh, ma sai quanti ce ne sono? Ma io, cioè, attorno a me, sai quanti uomini conosco da chi deve dare mantenimenti da 5.000 euro al mese più la casa, da chi ha liquidato la donna con la casa, da chi deve dare 2.200 euro al mese. Scusi, meglio cambiare. Se la società decidesse di progredire e quindi di diventare una società equa, ok, ci sta. Però in quel caso dovrebbe diventare equa anche nel momento in cui la donna viene pagata la stessa cosa, con lo stesso corrispettivo. Ah, sono assolutamente d'accordo. Assunzioni comunque importanti, senza derimiderla. Assunzioni importanti, ad esempio, le donne possono fare delle imprenditrici e mettersi in gioco, perché non lo fanno? Eh, perché sono un po' escluse comunque. Lo possono fare, ma ci sono donne imprenditrici, però... Perché non lo fanno? Cioè, ci sono delle statistiche che io le ho pubblicate in un video, però la maggior parte delle donne non si mette in gioco. Quello è vero. Ok, quindi ragazzi ho ragione io. No. Buonanotte, ciao ciao.